C'eravamo lasciati con il Boeing egiziano in volo verso Tunisi. A bordo i quattro dirottatori, i due negoziatori dell'OLP, l'ambasciatore egiziano e otto membri delle forze speciali egiziane. La direzione è Tunisi, la città dove si trova la sede dell'OLP di Arafat. Il piano è molto semplice, l'aereo a terra e i dirottatori insieme ad Abu Abbas e Ania Lassan sarebbero stati subito consegnati all'OLP. Alle 22 però, con l'aereo già in volo, arriverà la conferma che Tunisi ha chiuso tutti gli aeroporti. La richiesta tra l'altro si saprà essere avvenuta anche grazie a uno specifico intervento da parte proprio degli Stati Uniti. Era accaduto che gli americani avevano obbligato il governo tunisino a permettere l'avvicinamento a Tunisi per poi chiudere l'aeroporto in fase di atterraggio per costringere l'aereo a riprendere il volo in direzione nell'Italia. Del resto, bloccare gli aeroporti tunisini con l'aereo in volo è un piano perfetto per obbligare l'aereo a dirigersi verso la nostra penisola. Adesso guardiamola un attimo dal punto di vista americano. Loro vogliono far atterrare il Boeing egiziano a Sigonella. Bloccarne l'atterraggio in Tunisia solo dopo che questo era partito offre quindi due opzioni. O l'aereo rientra in Egitto, ma questo sarebbe stato certamente impedito proprio dagli egiziani che non vedevano l'ora di sbarazzarsi del problema sequestrati, oppure l'aereo deve cercare un altro aeroporto e quello più ovvio non poteva che essere uno italiano. Vi ricordo che oltre all'equipaggio a bordo si trovano otto militari delle forze speciali egiziane, il diplomatico Zeid Imad Ahmed, Abu Abbas e Ani Al-Assani, il capo militare del fronte per la liberazione della Palestina e ovviamente quattro dirottatori. Il volo egiziano si trova ad avere molto vicino un aereo americano che li obbliga a fare rotta verso Ciampino. L'idea americana è quella di farlo deviare successivamente dal volo e farlo atterrare alla base di Sigonella che si trova in Sicilia. Mubarak dirà per sempre che non si sarebbe mai aspettato una tale volta faccia da parte dei tunisi, dato che prima del decollo, cioè 45 minuti prima della comunicazione di chiusura degli aeroporti, siano detti favorevoli all'atterraggio dell'aereo. Il piano americano si sveglia immediatamente. Quasi contemporaneamente con il decollo del Boeing dall'Egitto, alcuni F-14 e un aereo Okai partono dalla porta aerei Saratoga che in quei giorni si trovava nelle acque della Repubblica Socialista Federale Jugoslava, a due passi dal porto di Dubrovnik. Ovviamente non risulta che gli Stati Uniti avessero informato il governo jugoslavo della reale missione di quegli aerei. In effetti una domanda che in molti si sono fatti è cosa sarebbe successo se il pilota egiziano, quello del Boeing, si fosse rifiutato di ubbidire agli ordini dei piloti americani. Io non ho le prove per affermare questo, ma sono abbastanza certo che gli F-14 avrebbero provveduto ad abbattere il Boeing. Del resto avrebbero applicato il piano secondario previsto per quella missione. L'aereo quindi viene costretto ad atterrare alla base di Sigonella. L'Ansa batte questa notizia a mezzanotte e 42, ma è una notizia che ha due aspetti interessanti. Innanzitutto non si parla dell'intercettazione, ma di un atterraggio autonomo. E poi la fonte dell'informazione è l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio. Dovremo infatti aspettare una conferenza della Casa Bianca per sapere che l'atterraggio era stato obbligato dai caccia americani. Notizia che indispettirà non poco gli egiziani dato che si trattava di un diottamento di un aereo della loro compagnia di bandiera ad opera degli Stati Uniti. La base di Sigonella, io voglio ricordarvi, che è una base italiana che è stata data in uso agli americani solo per operazioni NATO. Gli americani invece qui si stanno comportando come se quella base fosse loro, ma non è così. Un'operazione, quella americana quindi, che viola apertamente anche gli accordi che regolano l'uso delle basi che dicono come in un caso come questo il consenso all'atterraggio sarebbe dovuto arrivare dalle autorità italiane. Nonostante l'Italia si taccia sul modo con il quale è avvenuto l'atterraggio, gli Stati Uniti non apprezzano la notizia data dall'Ansa. Loro infatti avrebbero preferito che l'operazione fosse avvenuta senza lasciare tracce. Io capisco tutto. Ma come fai a far sparire la notizia di un aereo che doveva atterrare a Ciampino e che è sparito in mezzo al mare? E poi magari lo facevi apparire magicamente in volo, magari in rientro per l'Egitto. E dopo? Come cosa avresti fatto? Comunque la notizia dell'atterraggio arriva ad Andreotti che chiede immediatamente informazioni agli Stati Uniti. Scopre che il piano americano è estremamente semplice. I dirottatori sono in una base nella quale sono presenti ingenti forze americane. L'idea è quella di prelevare i dirottatori con la forza e di farli proseguire fino agli Stati Uniti dato che erano stati accusati dell'omicidio di un loro concittadino. Craxi però, al contrario, vuole che quelle persone vengano processate in Italia. È vero che aveva dato l'ok all'atterraggio a Sigonella, ma solo perché, messo di fronte al fatto che alcuni F-14 stavano minacciando l'aereo, voleva giustamente ridurre la tensione che si era creata. Insomma, era stato costretto a cedere per evitare conseguenze peggiori. Troppi aerei volavano sui cieli siciliani quella notte e quello egiziano, tra l'altro, era anche un aereo in servizio di Stato. C'è anche da dire, per essere veramente precisi, che quando Craxi darà l'ok all'atterraggio, lui ancora non lo sa, ma l'aereo è già stato messo a terra. L'aereo aveva di fatti dichiarato emergenza carburante e un militare statunitense a Sigonella aveva strappato il microfono al collega italiano dell'attore di controllo e aveva lui dato l'ok. Craxi quindi, in via preventiva, ordina di far convergere sulla base di Sigonella tutti i carabinieri che era possibile inviati dalle caserme circostanti. Spadolini è furioso per la violazione dello spazio aereo italiano, proprio da parte degli aerei americani, ma lui si sente completamente tradito. Lui, che era sempre stato il più atlantista del governo, lui che aveva sempre tenuto la parte degli Stati Uniti, adesso lui si trova in una situazione davvero imbarazzante, nella quale l'alleato dimostra una scarsissima considerazione per la sovranità italiana. E lui è il ministro della difesa in carica. Le forze italiane erano in realtà già da tempo pronte alla base di Sigonella, perché il comandante della base, vista la rotta strana che stava tenendo quell'aereo, il Boeing egiziano in volo, si era preoccupato di allertare la vigilanza militare. Tra l'altro, noi lo scopriremo dopo, perché mai nessun rappresentante italiano riuscirà a salire sull'aereo, il mezzo era stato minato e l'ordine dato al diplomatico egiziano a bordo era di fatto farlo esplodere con tutte le persone dentro se qualcuno armato avesse tentato di salire senza autorizzazione. E in poco tempo i militari italiani circondano l'aereo. Tengo a precisare che tutti quei militari, i militari della VAM, sono militari di leva che stanno prestando servizio in quella base. A quel punto, senza nessuna autorizzazione, atterrano anche due aerei della Delta Force americane che scendono a loro volta dal mezzo e circondano i militari italiani. Il diplomatico egiziano Imad Ahmed viene fatto scendere dall'aereo dagli statunitensi che vorrebbero provare a salire sul mezzo, ma non ci riescono, perché di mezzo ci sono schierati gli italiani. Ma non è finita. A questo punto arrivano alla base di Sigonella anche tutti i carabinieri chiamati dalle caserme vicine, che non possono fare altro che schierarsi attorno alla Delta Force. Insomma si crea una situazione davvero surreale. L'aereo al centro circondato dai VAM, dai VAM italiani, attorno a loro la Delta Force americana, che a loro volta la Delta Force è circondata da un numero di carabinieri che continua enormemente a crescere man mano che passa il tempo. Tutti schierati e tutti col colpo in canna. Ed è una situazione di altissima tensione, perché basta pochissimo per far partire una battaglia e ricordiamo che la Delta Force è un reparto abbastanza famoso per avere il grilletto facile. Il problema però adesso si spostava sull'assenso al processo per i dirottatori che Craxi non era intenzionato a derogare agli Stati Uniti. E qui partono una serie di telefonate tra le autorità italiane e quelle statunitensi, telefonate che per varie ragioni non riceveranno mai risposta da parte degli USA. I due comandanti, quello della Delta Force e quello italiano della base, sono in realtà molto preoccupati. Entrambi capiscono la posizione dell'altro, ma non sanno davvero cosa fare. E qui arriva il classico colpo di genio italiano. Il comandante della base italiana ordina il personale non impegnato di raggiungere i soldati schierati con decine di tazze di caffè. Avete capito bene. Il comandante della base ordina di offrire il caffè alla Delta Force e ai militari italiani schierati. Una manovra assurda da un certo punto di vista che però incredibilmente serve a sciogliere la tensione. È ancora una situazione pericolosa, ma quel gesto inaspettato di umanità e cortesia serve un po' a tranquillizzare tutti. È un sistema per dire, ragazzi fermiamoci tutti, stiamo calmi, beviamo insieme una tazza di caffè e aspettiamo tutti assieme per vedere come evolve la situazione. Ma a questo punto entra in gioco un personaggio per noi importantissimo. Si tratta di Michael Dean, che è un consigliere di Reagan ed è un uomo che era stato anche nella CIA e nella CIA aveva operato in Italia, quindi conosce benissimo la nostra lingua e quindi Reagan lo usa come intermediario, come interprete tra lui e Craxi. Le Dean spiega a Craxi che Abu Abbas, se rilasciato, avrebbe certamente organizzato degli attentati contro gli americani. E qui succede una cosa stranissima. Provo a spiegarvela. Gli americani sono convinti che sull'aereo ci siano quattro persone, due dirottatori e due membri dell'OLP. E Reagan chiede che vengano liberate, testualmente, due più due persone. Le Dean traduce che vengano liberati tutti e quattro e gli italiani quindi decidono di giocare sull'equivoco. Si dicono quindi possibilisti sul fatto di liberare quattro persone, ossia i quattro dirottatori. Insomma, capiscono che gli americani vorrebbero che tutti i palestinesi scendessero dall'aereo, ma dato che hanno detto quattro, gli italiani decidono di capire che gli americani vogliono solo i sequestratori. E questo è importante per l'Italia, perché una cosa era consegnare quattro terroristi di basso livello, ma un'altra era consegnare Abu Abbas e Anil Hassan, che erano i due negoziatori inviati da Arafat. Consegnare a quei due sarebbe stato uno sgarro troppo forte nei confronti del leader dell'OLP. Anche perché avremmo poi dovuto fare i conti anche con l'Egitto che aveva garantito che Abu Abbas non sarebbe mai stato consegnato agli americani. L'Italia quindi vuole evitare di aprire una crisi anche con il Cairo, che era già stato contrariato dal fatto che un loro aereo era stato dirottato dagli americani e che in quel momento si trova su suolo italiano. Talmente inferocito il governo egiziano che aveva deciso di tenere praticamente in ostaggio l'Achille Lauro, una scusa di indagare su quanto era accaduto. Si decide quindi di giocare con questo equivoco anche se era evidente a tutti che gli americani volevano anche Abbas perché lo consideravano il vero organizzatore dell'operazione, un'operazione che vi ricordo era costata la vita a un cittadino statunitense. Sul fronte italiano il governo devo dire che sembra compatto. Craxi e Andreotti a questo punto sono tornati sulla stessa linea. I dirottatori devono restare in Italia. I due Craxi e Andreotti si parlano spesso e mantengono la linea comune nei confronti degli Stati Uniti che intanto provano a tentare gli italiani dicendo che se avessero lasciato andare i dirottatori gli avrebbero tolto un bel problema internazionale. Solo che il codice italiano non prevede deroghe e dall'Italia arriva la rassicurazione che sicuramente i giudici italiani avrebbero agito come se il morto fosse italiano. Panorama però per nulla condiviso dagli Stati Uniti che sono certi ormai della troppa indulgenza dei giudici italiani e sono accuse sorprendenti perché ormai era consolidata una buona collaborazione tra le due magistrature, quella americana e quella italiana. Resta comunque la preoccupazione dell'amministrazione americana che ai militari italiani potessero saltare i nervi dando via magari a un conflitto a fuoco con i militari della Delta Force. Se fosse successo, dicevano gli americani, certamente i militari italiani potevano rimanere uccisi. Si scopre anche che su quell'aereo c'è una persona che interessa gli Stati Uniti più degli altri e non è Abu Abbas ma Ani Alassan che in quel periodo si trovava sul libro paga dello spionaggio rumeno col nome in codice di Annette. Era una figura chiave nei rapporti tra l'OLP e il blocco orientale. La situazione fra Italia e Stati Uniti era evidentemente tesa e Craxi decide quindi di scrivere una lettera a Reagan. Lo scopo è quello di ribadire che nonostante le differenze che erano evidentemente sorte nella gestione dei prigionieri, il rapporto tra i due paesi doveva restare solido. I due paesi erano compatti sulla linea da tenere con gli assassini di Klinghofer. In questa lettera Craxi suggerì infine la possibilità di mantenere nel più assoluto riservo tutti i fatti accaduti quella notte. Reagan risponde con una telefonata. Rimanisce il fatto che vuole che il processo per l'assassinio di Klinghofer si svolga negli Stati Uniti. Si appella ad un trattato redatto tra Italia e Stati Uniti che però non era ancora stato da noi ratificato. In più volte chiede che vengono arrestati anche i due dirigenti palestinesi sull'aereo. Craxi a questo punto non dice né sì né no ma conferma che procederà con degli accertamenti. Insomma vuole prendere tempo. Alle 4 del mattino Palazzo Chigi comunica all'ambasciata egiziana che si vuole procedere all'arresto dei quattro dirottatori e si vuole usare i due dirigenti palestinesi come testimoni. Gli egiziani concordano sull'arresto ma si oppongono alla seconda parte del discorso. Per loro quei due dirigenti palestinesi sono ospiti del governo egiziano e quindi non devono lasciare l'aereo. Gli americani saputa questa notizia valutano immediatamente di intraprendere le azioni di forza a Sigonella. Possibilità che però devo dire viene scartata quasi subito perché c'è in effetti il concreto rischio di uccidere anche alcuni membri dei militari egiziani presenti. I dirottatori quindi vengono fatti sbarcare e arrestati dai carabinieri. Resteranno comunque alla base di Sigonella. Per loro si prevede a questo punto in Italia. L'Egitto comunque intanto fa sapere che non permetterà all'Achille Lauro di partire finché non fosse stato fatto decollare il loro aereo. È evidente che Mubarak e Arafat si stanno muovendo nella stessa direzione anche se devo dire lo fanno per due motivi diversi. Il primo vuole la liberazione dell'aereo l'altro vuole a casa la propria delegazione. Quello che è certo è che a questo punto della storia. I dirottatori sono stati scaricati ormai da tutti. Perfino l'OLP fa sapere che quei quattro uomini a loro non interessano affatto. Dicono addirittura che per loro si potrebbero addirittura consegnare agli Stati Uniti. L'Italia adesso davvero si trova tra l'incudine e il martello. C'è una nave italiana che si trova in pratica ostaggio del governo egiziano e un aereo sempre egiziano sul proprio territorio che ha subito un vero e proprio dirottamento da parte degli Stati Uniti. Alle 11 il segretario americano Schulz dirama un telegramma nel quale fa sapere di aver trovato un accordo con Craxi. L'Italia avrebbe trattenuto i sei ma poi avrebbe lasciato tornare a casa l'aereo con a bordo i due inviati palestinesi. L'ipotesi estradizione negli Stati Uniti per Schulz comunque resta in piedi ma ci tiene ad assicurare che questa avrebbe comunque riguardato solo i dirottatori dato che per gli altri due non c'erano prove che si fossero macchiati di qualche crimine. Si decide poi di far decollare il Boeing in direzione Ciampino meglio spostarlo da quella base e portarlo nella capitale dove sarebbe stato certamente più gestibile. Prima però si deve attendere l'arrivo del Cairo di un altro aereo con a bordo ci sono dei passeggeri statunitensi dell'Achille Lauro. Si vuole far sì che questi passeggeri riconoscano i dirottatori. Craxi intanto intorno alle 17.30 tiene una conferenza stampa nella quale spiega il perché l'aereo fosse stato fatto atterrare a Sigonella. Dice che la situazione era certamente molto particolare. Lui non fa riferimento al fatto che la Delta Forza e i carabinieri si stessero fronteggiando col colpo in canna ma si limita a far riferimento ad una non ben determinata situazione poco ortodossa. Insomma cerca di non gettare altra benzina sul fuoco. Benzina sul fuoco che però viene immediatamente gettata da Andreotti che riaccende gli animi con una dichiarazione. Rispondendo ad un giornalista infatti dice che l'Italia mai e poi mai avrebbe concesso l'istradizione negli Stati Uniti perché in quel paese vige la pena di morte. Quindi l'aereo deve ripartire per Ciampino. Il governo italiano vuole poter discutere con i passeggeri dato che a bordo ci sono dei militari egiziani che non avrebbero mai fatto salire nessuno. Gli americani non sono contenti ma a questo punto per loro l'alternativa era dare libero sfogo alla Delta Forza, una soluzione che a guardare bene, stanti così le cose, non va più bene a nessuno. Alle 20.20 arriva la notizia che i dirottatori sono stati identificati e che i magistrati italiani hanno dato l'autorizzazione per il decollo per Ciampino. Certo è vero che una volta decollato i militari egiziani avrebbero potuto armi in pugno far cambiare Meme rotta al mezzo e farli per farlo tornare in Egitto ma gli americani erano comunque tranquilli perché avevano avuto delle conferme che questo non sarebbe accaduto proprio dall'ambasciatore egiziano. Alle 22 il Boeing decolla accompagnato da 4 F-104 italiani. Contemporaneamente si alza in volo anche un aereo americano che segue a poca distanza l'aereo egiziano. I piloti italiani chiedono a questo F-14 almeno di identificarsi ma il pilota risponde con un poco cortese levatevi dalle palle. A questo punto gli italiani seguendo la procedura NATO informano il pilota dell'F-14 che hanno armato i missili. L'americano capisce che 4 contro 1 non ha speranze e finalmente si allontana. Gli aerei americani cercano ad un certo punto addirittura di impedire l'atterraggio a Ciampino ma capiscono abbastanza in fretta che non possono continuare in quella direzione e alla fine si arrendono tutti. Il mezzo da trasporto americano che accompagna l'F-14 a questo punto si abbassa e scompare dai radar volando a bassa quota. Riapparirà poco tempo dopo a poche miglia da Ciampino, dichiarerà un atterraggio di emergenza e atterrerà all'aeroporto posizionandosi, guarda caso, a pochi metri dall'aereo egiziano che aveva toccato la terra pochi minuti prima. Il governo italiano è furioso, è una palese violazione della sovranità italiana. Craxi lo viene a sapere ed ha una reazione di rabbia quasi incontrollata. La prende pure sul personale, dice a Gianni De Michelis che si trova con lui che gli americani con me si rompono le corda. Craxi non è più disposto a questo punto ad accondiscendere alla richiesta americane. Parte delle persone presenti sull'ereo vengono fatte scendere e trasportate all'Accademia d'Egitto delle Belle Arti che si trova in centro a Roma a due passi da Villa Borghese. Gli Stati Uniti cambiano posizione. Ricordano che Abu Abbas è responsabile del dirottamento dell'Achille Lauro e quindi a questo punto ne richiedono l'arresto immediato. Gli Stati Uniti a questo punto minacciano. Se venissero liberati i due palestinesi, le reazioni tra i paesi verrebbero danneggiate seriamente. Una pressione resa ancora più evidente da una nuova lettera di Reagan a Craxi. In questa lettera Reagan ricorda Craxi che lui si era impegnato a tenere i prigionieri in attesa dell'estradizione per gli Stati Uniti e tra l'altro in attesa di ricevere anche delle accuse formali per gli altri due palestinesi. La lettera arriva anche da Andreotti che apporrà su quel foglio una nota atto ostile. Craxi a questo punto si dà malato e Spadolini se ne va a Milano per la celebrazione del cinquantesimo della riapertura della scuola militare a Meneghina e Andreotti resta da solo, delegato da Craxi a rappresentarlo. Il ministro della giustizia Martina Zolli nel frattempo fa sapere che tutte le istanze statunitense erano da rigettare dato che le prove a carico dei due palestinesi non sono sufficienti. Gli Stati Uniti rispondono con nuovi documenti dei quali si evince che Abu Abbas aveva avuto un ruolo in molteplici altri attentati terroristici. Si chiede quindi di trattenere Abbas in attesa di nuove prove della sua colpevolezza. Andreotti in realtà vuole al più presto far ripartire quell'aereo per il Cairo con a bordo i due palestinesi. Ha però paura che l'aviazione statunitense avrebbe potuto prendere la decisione di abbatterlo. E quindi si pensa di trasferire Abbas e Alassane su un volo di linea jugoslavo che partiva dal fiumicino alle 17.20 per Belgrado. Del resto dal punto di vista italiano la prova che Abbas fosse complice del dirottamento. Non c'è. Ma perché viene coinvolta la Jugoslavia? Che questo è interessante. Perché in quel momento quel paese sta ospitando il figlio di Nasser che era stato condannato in Egitto per terrorismo. Jugoslavia ed Egitto insieme all'India erano i fondatori del gruppo dei paesi non allineati. E quindi esiste un accordo di estradizione tra quei paesi. Ma la Jugoslavia non vuole riconsegnare all'Egitto il figlio di Nasser. E quindi l'accordo diventa questo. La Jugoslavia si piglia la patata bollente di Abu Abbas mentre in cambio noi ci pigliamo il figlio di Nasser. Io poi onestamente non so quest'uomo che fine l'abbia fatto. Probabilmente sarà stato instradato per qualche altro paese in un periodo successivo. La soluzione è totalmente in visa al ministro della difesa Spadolini. Dal suo punto di vista sarebbe stato uno sgarro troppo grande da fare all'alleato a delle strisce. Ormai avete capito quali sono le posizioni all'interno del governo. Erano molteplici. Tutte posizioni frutto della linea politica e dell'interesse dei vari partiti. Quindi tanti partiti in tante posizioni. La differenza più evidente è comunque quella tra Spadolini e il partito repubblicano che è sempre estremamente vicino alle posizioni atlantiste e figlio israeliane. Ma devo dire che poi alla fine nonostante tutte queste differenze in questa seconda fase del delottamento riusciranno comunque i membri del governo a mantenere il più assoluto riservo su quello che realmente era avvenuto a Sigonella. Credo che se fosse dipeso da loro non saremmo mai venuti a sapere nulla. O forse sì magari l'avremmo saputo ma molto tempo dopo. In questo caso infatti ci penserà il Washington Post a dare la notizia il 12 ottobre. In questa occasione tutti verranno a sapere che gli italiani si erano presi degli impegni con gli Stati Uniti e che ora si erano defilati. L'Italia però non ci sta, ma è controbatte e devo dire con decisione. Il governo infatti fa sapere che l'aereo si trovava a Sigonella per motivi eccezionali. Erano infatti stati gli Stati Uniti a forzare lì quell'atterraggio. Il fatto è che il fermo di quell'aereo per la magistratura italiana è illegale e quindi è ovvio e corretto lasciarlo tornare in patria. Per 36 ore si era tollerata una situazione eccezionale al fine di riconoscere i dirottatori ma ora che questo era stato fatto basta non c'era più nessun motivo di trattenere l'aereo. Insomma abbiamo collaborato anche troppo con gli Stati Uniti. Loro non sono riusciti a fornire delle prove sostanziali per trattenere le persone che sono a bordo e quindi è corretto lasciar tornare a casa il Boeing. L'aereo viene quindi spostato da Ciampino a Fiumicino dove Abbas e Alassane saliranno sul famoso volo iugoslavo. Gli Stati Uniti reagiscono con un durissimo comunicato stampa nel quale si stigmatizza il comportamento del governo italiano che aveva permesso la partenza di un terrorista nonostante le richieste di arresto inoltrate. E finché l'aereo di Jugoslavia è ancora in aria gli Stati Uniti fanno richiesta di estradizione proprio al governo di Jugoslavio ma la risposta è immediata, niente da fare. Per loro l'OLP è l'unica ufficiale rappresentante del popolo palestinese e non un'associazione terroristica e quindi loro non sanno perché dovrebbero comportarsi in maniera diversa da come hanno fatto gli italiani. Inoltre ne approfittano già che ci sono per chiedere agli americani perché il governo non era stato avvertito dell'operazione di intercettazione del Boeing dato che gli aerei erano decollati dalla Saratoga che si trovava in quel momento in acque territoriali jugoslave. Che non succeda più eh, la Saratoga può arrestare ma fate attenzione che alla prossima. Tra l'altro c'era un problema di carattere esquisitamente tecnico. Il cadavere di Klinghofer verrà trovato dalle autorità siriane solamente il 14 ottobre e quindi tutte le richieste americane di processare i dilottatori sul loro territorio non erano valide perché fatte in un momento nel quale le prove di quell'omicidio non c'erano. Nel frattempo arriva la notizia che Abu Abbas è arrivato a Belgrado e la tensione sull'Achille Lauro si allenta immediatamente. L'Egitto ha ottenuto quello che voleva e da questo momento in poi l'inchiesta sulla nave prende una piega molto diversa. Faccio notare che poco prima dell'arrivo di questa notizia era iniziato l'interrogatorio del parrucchiere per signora di bordo. Lui era uno di quelli che aveva aiutato a buttare il corpo di Klinghofer in mare ed era terrorizzato di rispondere alle domande dei magistrati egiziani. Fortuna vuole che proprio quei magistrati a questo punto si sono tranquillizzati e quindi le domande diventano meno impegnative e l'attenzione si sposta immediatamente su aspetti del rapimento molto diversi come per esempio capire se a morgo ci fosse veramente dell'esplosivo. Il parrucchiere verrà liquidato alla fine con qualche domanda a diritto e poi lasciato andare. A dirvela tutta, spaventato com'era quell'uomo, tenterà di dire qualche cosa in più, ma gli egiziani proprio non lo lasciavano parpare per paura che, vista la situazione che si era a questo punto sistemata, qualche sua dichiarazione gli avrebbe obbligati ad approfondire una storia che a quel punto per loro si poteva dire bella che risolta. A questo punto l'Achille Lauro è libera di muoversi dall'Egitto. Le persone a bordo sono ovviamente provate, tese, ma almeno adesso potevano tornare a casa. Resta la preoccupazione che qualcuno potesse fare contro il loro e contro le loro famiglie qualche azione di rivalsa. Ve la ricordate la minaccia dei passaporti? Sappiamo chi siete perché abbiamo i vostri passaporti, però alla fine devo dire che non accadrà nulla. A questo punto parte, almeno parte delle relazioni internazionali, si rilassano. Fino a poco prima possiamo dire che tutti ce l'avevano con tutti. L'Italia contro gli Stati Uniti perché li aveva messi in una posizione difficile, gli Stati Uniti contro l'Italia perché avevano lasciato a bassa, l'Egitto contro gli Stati Uniti perché avevano dirottato un volo civile egiziano, ma l'Egitto anche contro l'Italia perché aveva coperto l'azione illegale degli Stati Uniti. Diciamo che a questo punto invece almeno il rapporto tra Italia e Egitto si normalizza immediatamente. L'Egitto a quel punto capì che c'era stato un enorme equivoco e che l'Italia non era assolutamente schierata con gli Stati Uniti in quell'affare. Devo dire che anche questi fatti poi porteranno Egitto e Italia ad avvicinarsi molto dal punto di vista diplomatico nei mesi successivi. Ma la crisi di Sigonella lascerà nel governo italiano degli strascichi, devo dire, molto pesanti. I ministri repubblicani infatti ritireranno le loro delegazioni dal governo, aprendo di fatto una crisi. Lo scontro è evidentemente tra filo americani e filo israeliani contro i filo palestinesi. In pratica Spadolini contro Craxi e Andreotti. Spadolini chiede di mantenere la questione all'interno della maggioranza, ma Craxi preferisce andare in Parlamento e spiegare le ragioni che stavano dietro alle decisioni prese per gestire quella vicenda. Craxi ricostruisce minuziosamente l'accaduto in Parlamento. Spiega che aveva accettato l'atterraggio del Boeing a Sigonella perché era il solo modo a quel punto per assicurare alla giustizia italiana i quattro responsabili del dirottamento. La reazione del Parlamento è addirittura inaspettata. Craxi infatti riceve un inaspettato appoggio sia dal partito comunista italiano che dal movimento sociale e i repubblicani dovranno farsene una ragione. Alla fine però questa tensione che si è venuta a creare tra Italia e Stati Uniti non giova a nessuno. Passa un po' di tempo e gli americani decidono che forse è il caso di cominciare a ricucire. E quindi Reagan scrive a Craxi una lettera con un incipit che tra l'altro è diventato molto famoso perché la lettera inizia con le parole dir Bettino, che significa caro Bettino. In questa lettera il presidente statunitense invita Craxi negli Stati Uniti dato che il precedente viaggio del presidente del Consiglio era assaltato proprio a causa del dirottamento. Il viaggio ha luogo circa un mese dopo ed è un'occasione per Craxi per spiegare a Reagan che lui non avrebbe potuto agire in nessun altro modo data la situazione che si era venuta a creare. C'è anche da dire che i fatti stessi che nel frattempo erano accaduti in Italia avevano fatto capire a Reagan che questo atteggiamento più morbido del nostro paese nei confronti della causa palestinese non aveva contribuito a salvaguardare il paese da altri attentati visto che due mesi dopo, il 17 dicembre, avvenne la famosa strage di Fiumicino. Ne parlo nel mio video su Argo 16. Forse l'analisi migliore di tutto quello che era successo tra Italia e Stati Uniti in quel periodo la farà Henry Kissinger parlando con l'abbasciatore italiano Rinaldo Petrignani. Dirà infatti Kissinger We had to get mad, you had to set him free. C'è solo un po' come dire noi dovevamo per forza rabbiarci con voi e voi dovevate per forza liberare Abbas. Nessuna delle parti in effetti aveva scelta. Al comprensibile risentimento americano per la liberazione di un individuo che veniva considerato come un pericoloso terrorista si contrapponevano in effetti, oltre delle buone ragioni giuridiche e politiche, il risentimento italiano per il modo in cui gli americani ci avevano trattato. L'anno dopo sembra che in realtà sia tutto dimenticato. In una lettera del segretario di Stato Schulz a Reagan si conferma che i rapporti con Craxi a questo punto sono eccellenti e che l'episodio dell'Achille Lauro era ormai una cosa del passato e che su base confidenziale l'Italia aveva permesso l'uso di sigonella per le operazioni di supporto in relazione all'esercitazione sul golfo della Sirte. Sappiate comunque che questo non è un cambio di rotta del nostro paese, non è una nuova scelta di campo, noi continueremo a rimanere ondivaghi. Se da una parte diamo le basi agli americani, dall'altra informeremo Gheddafi dell'operazione Eldorado Canyon, ossia del bombardamento deciso degli americani sul territorio libico in risposta ad un attentato alla discoteca La Belle di Berlino nella quale avevano perso la vita si pensa circa 60 persone. Reagan fa sganciare sulla Libia 60 tonnellate di munizioni, una tonnellata per vittima. Gheddafi si salva proprio perché è avvertito da una telefonata di Craxi poco prima dell'inizio del raid. Abu Abbas alla fine verrà catturato dagli americani durante la seconda guerra del golfo il 15 aprile del 2003. L'Italia ne chiederà immediatamente l'estradizione, ma non l'atterrà mai. Abu Abbas morirà finché si trova sotto custodia dell'esercito statunitense l'8 marzo dell'anno successivo. Il Pentagono dirà per infarto, ma in pochi all'interno del mondo aramo hanno mai creduto a queste ipotesi. Insomma è una storia pazzesca, figlia di tempi che non ci sono più. Io non sono mai stato tenero con i rappresentanti della prima repubblica. Chi conosce i miei video sa cosa penso di Andreotti, l'ho definito mafioso in varie circostanze, e anche di Craxi che ho definito ladro rifacendomi ad una sentenza della magistratura italiana passata in giudicato. Devo dire però che in questo frangente non avrebbero potuto comportarsi meglio. Il governo italiano dell'epoca in effetti era riuscito a tenere testa a quello americano cercando di agire nel modo migliore. Quella volta abbiamo avuto la forza di far valere i nostri diritti nonostante il rapporto con gli Stati Uniti fosse sempre complicato. Bisognava tenere duro con gli Stati Uniti e concedere qualche cosa quando serviva ma senza esagerare per non irritare il mondo aramo. Insomma più di così non si poteva fare. Non vorrei fare troppo il provocatorio ma vi chiedo se una cosa del genere accadesse oggi avremmo la forza di comportarci allo stesso modo? Lascio a voi la risposta tanto la mia opinione l'avete capita perfettamente. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi appuntamento per la prossima storia. Un abbraccio, ciao! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti